Un bronzo per entrare nella storia. A Tokyo è il giorno di Lucilla Boari, 24enne di Rivalta sul Mincio, prima donna italiana a conquistare una medaglia olimpica nel tiro con l'arco. Lo fa al ritmo del tormentone estivo mille di Fedez Orietta Berti. Si commuove non solo lei ma anche il presidente federale, Mario Scarcella. È una cosa storica, dice Emozionato. Il bronzo di Lucilla dimostra che con la determinazione e la serietà si possono raggiungere i risultati più difficili. Anche oggi, in una giornata per il resto di magra assoluta, è una donna a smuovere il medagliere azzurro. La diretta interessata spiega «la notte scorsa non ho dormito pensando a quanto desideravo finire sul podio». La mancanza di riposo non le ha impedito oggi di rendere al meglio in gara, non tanto in semifinale contro la russa Elena Osipova, a sua volta costretta in finale ad inchinarsi alla classe della sudcoreana Han-san. Quanto nella finale per il bronzo contro la fortissima statunitense McKenzie-Brown battuta con una prestazione superlativa. Era dal 2004 con l'oro di Marco Gagliazzo ad Atene che il tiro con l'arco italiano non saliva sul podio dei giochi in una gara individuale. Ci è riuscita lei, la prima donna, alla quale ieri era dispiaciuto di aver dovuto battere in rimonta, la compagna Chiara ha ribagliati nei sedicesimi di finale, ma poi ha dovuto farselo una ragione e ha capito di poter arrivare fino al podio. Sogno realizzato al quale stenta ancora a credere. «Svegliatemi, perché questo è un sogno e non ci credo ancora», dice. «Magari lo realizzerò dopo, ora sono troppo felice pensando che non potevo chiedere di meglio dopo che nel sambodromo di Rio la medaglia a squadre era sfumata per poco. Da